Caccia all'auto d'oro, questa è una serie che già facciamo nella vita reale ma continuiamo a farla anche sul virtuale serie molto semplice, io vado a vedere i vari mercati o autoclassiche in Italia oppure aste, automobili, diciamo delle assicurazioni americane post incidenti o tante altre cose e vediamo macchine che hanno margine ovviamente ho dedicato una parte della serie anche al mercato italiano appunto per vedere se qualcuno è interessato, se gli piace a quanto pare a voi piace perché vedo le visualizzazioni, i commenti e quindi continuiamo il focus di oggi saranno le autoclassiche europee in Italia, focus principale Volkswagen e gruppo Volkswagen quindi può essere Skoda, può essere Volkswagen, può essere Porsche, qualsiasi cosa e poi subentreremo in questo record ed eccoci qui la prima, qui siamo su Facebook Marketplace, zona Roma ho messo 80 miglia di distanza perché non so perché avendo il Facebook americano me lo mette in miglia e non in chilometri eccoci qui, ho trovato questo maggiolone dell'anno 79 a 1750 euro allora, motore funziona e i freni funzionano, qui una macchia è marciante quindi non hai bisogno di un carattrezzi la puoi guidare in teoria a meno che non devi fare un viaggio da 2000 chilometri, non è consigliabile però è marciante, non so dove siete, questa è a Napoli, se io fossi, se io stessi ancora a Roma probabilmente chiamerei il carattrezzi di un amico o la trainerei con un carrello che mi affitto perché io ho la macchina che c'è il gancio di traino e quindi pagherei praticamente nulla di trasporto 1750, il motore funziona, la carrozzeria non è nel massimo ragazzi, state ascoltando uno che ha appena comprato un catorcio di Alfa Romeo da fare tutto quanto una roba del genere, a vedere, il colore sta messo bene, c'ha solo i punti diciamo classici di ruggine che però non è assurdo come la mia Alfa Romeo che era così arrugginita che ci potevi guardare attraverso quindi non mi preoccupa, il prezzo è basso, il motore funziona, l'unica roba è cosmetica se proprio voglio delegare e ripittare tutta la macchina per avere qualcosa di veramente fico cosa faccio? La scartavetro io, la preparo io, la preparo con la scartavetratura a 1000 di grati non so come lo chiamate in italiano e poi la do a carrozziere che me la deve solo pittare non deve essere perfetto, è una pittura veloce, non ti dovrebbe costare troppo perché vedo che c'è margine? Perché una macchina che ha sempre bisogno di carrozzeria rifatta ad Avezzano costa 4500 qui in vendita quindi tu avresti qualcosa che potresti vendere subito dopo con una carrozzeria migliore con 1500 di spese, già ho un piccolo profitto non assurdo però se guardiamo macchine messe bene, andiamo un po' più avanti, questi sono tutti cabrio vediamo 5000 e 3500 e 5000, 7000 per qualcosa che hanno pure fatto il resto mod quindi il margine c'è dai 1000 ai 3000 a seconda di quanto vuoi fare in quanto il motore e i freni e tutto quanto funzionano quindi molto buono, un buon punto di partenza un progetto diciamo però un po' più grosso perché la carrozzeria è una cosa che fa paura a molti è una cosa che devi, se vuoi farla te perlomeno, soprattutto prepararla è una cosa che devi passarci un po' di tempo appunto questa serie è per quelli che vogliono lavoricchiarci anche un po' sopra pure loro numero 2 qui alcuni mi diranno ma che cazzo dici? io vi dico, in America già queste stanno pompando di valore in modo assurdo parliamo delle vecchie Golf, la serie 2 e la serie 1 in questo caso abbiamo la serie 2 a un prezzo stracciato, per l'equivalente di poco più di una mensalità media italiana netta 2500 euro a Belletri abbiamo una Golf serie 2 dell'anno 84 ci hanno messo il fronte del GTI che è un po' una cagata, classica tamarrata del cazzo va ripulita però carrozzeria e tutto il resto sembra essere messo bene quindi già con una pulita hai qualcosa di molto più vendibile motore è stato rifatto molto interessante pure questo quindi andiamo a vedere qualcosa di comparison se voglio rivendela subito guarda qui, 82.000 km senza motore rifatto questo è probabilmente il motore originale 4500 4000 la puoi vendere tranquillamente con gli stessi km a carrozzeria perfetta 7.900 quindi anche qui il margine sembra esserci da rifare tutta quanta 2.000 questa potrebbe essere interessante però c'è anche 350.000 km quindi il doppio, più del doppio di noi questa c'è una 780.000 in vendita a 7.000 cioè capito? de roba, questa in Germania de roba ce n'è veramente tanta in margine c'è 1.000-2.000 euro addirittura tanto se vuoi metterla in condizione perfetta quindi potrebbe essere una macchina veramente interessante non è una macchina bella ma una macchina che piano piano sta tornando sta piacendo quel vintage quello che vuole entrare nelle macchine vintage e non c'è tanti soldi questa potrebbe essere una macchina interessante passiamo all'ultima come ho detto prima è gruppo Volkswagen non è soltanto Volkswagen ho scelto una Porsche quale Porsche? non è una 911 perché siamo tutti poveri è una 924 scusate una 944 è un'altra non è turbo questa veniva naturally aspirated e turbo questa è naturale 125 cavalli colore molto strano non penso che sia l'originale ma sembra che l'abbino ripittata che è una cosa buona vuol dire che c'hai tanta vita di colore la cosa che non mi piace sono i cerchi da vedere se questi ti riescono a darti degli altri cerchi o meno set di cerchi nuovi con ruote non lo so almeno 500 ti partono anche con le ruote usate se ci puoi mettere qualcosa che comunque funziona ed è vendibile gli interni sembrano essere messi bene diciamo tutta la parte vetro sembra essere messa bene la macchina bisogna pulizia quanto vale questa macchina messa bene andiamo a vedere qui su auto scout le vedi dai 15 ai 7000 7900 a seconda del modello perché c'è quello turbo che costa di più e quello non turbo che costa di meno io quello non turbo l'ho visto dai 15 ai 7900 con i colori quelli più standard quindi il grigio o quel grigiotto un po' più chiaro anche il bianco questo è un bianco macchina bella macchina divertente lo guidate più volte quindi anche da usare per i cazzi tuoi se non lo vuoi rivendere è una macchina veramente bella a 3900 3900 è buono perché sta a 3900 perché non marcia quindi carrozzeria nuova freni nuovi hanno fatto un tagliando e tanto altro ma ha bisogno della pompa iniezione pompa freni cruscotto e piccoli segni carrozzeria quindi qualcosa ce l'ha roba piccola cruscotto ce lo so fare glielo so riparare quando è crepato lì devi tagliare col taglierino e poi piazzarci una pastella fatta apposta e poi ripittarlo non è un lavoraccio in termini di tempi ma è un lavoro che è un po' una palla distribuzione l'hanno fatta loro pompa freni non costano troppo perché sono parti Volkswagen e l'ultimo piccolo segno di carrozzeria secondo me con una bella pulizia lasciandola così col colore che ci sta senza fare troppe cose in realtà va bene e avresti una macchina che se paghi il trasporto con altri 500 euro hai una macchina totale magari un po' di sconto con 4.500 4.600 c'è una macchina rivendibile con almeno 1.500 di margine che non è male questa secondo me delle macchine di oggi è quella molto interessante che avrebbe più potenziale ma non so perché il mercato è veramente vario la Volkswagen Golf era quella secondo me più semplice la prima era quella che potenzialmente aveva più margine ma era anche più lavoro ragazzi questo conclude l'episodio di oggi se avete un brand che vi piace su cui vi faccio una piccola analisi mandatemelo sui commenti magari lo faccio ho letto Volkswagen e gli ultimi e adesso ci ho cazzeggiato e ho trovato queste tre potevo fare il bus come si chiama l'hippie bus ma non ne ho trovati costano un bordello quindi ci siamo fermati qua ragazzi grazie se vi piace quello che faccio lasciate un subscribe ciao